L'anno sarà buono nella misura in cui ognuno di noi, con l'aiuto di Dio, cercherà di fare il bene giorno per giorno. Così Papa Francesco dopo la recita dell'Angelus. In occasione della cinquantesima giornata mondiale della pace, il pontefice ha affermato che l'odio e la violenza si combattono solo con la fraternità e la riconciliazione. 50 anni orsono, il beato Papa Paolo VI iniziò a celebrare in questa data la giornata mondiale della pace, ha ricordato Papa Bergoglio, per rafforzare l'impegno comune di costruire un mondo pacifico e fraterno. Nel messaggio di quest'anno ho proposto di assumere la non-violenza come stile per una politica di pace. Purtroppo la violenza ha colpito anche in questa notte di auguri e di esperanza. Adolorato esprimo la mia vicinanza al popolo turco. Prego per le numerose vittime e per i feriti e per tutta la nazione in lutto. Prima dell'Angelus, Francesco, commentando il Vangelo della prima domenica dell'anno che presenta la visita dei pastori alla grotta, ha osservato che Maria segue con attenzione il loro passaggio, perché in esso scorge il movimento di salvezza che scaturirà dall'opera del figlio. Grazie. 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 Grazie.